Racing Podcast del giorno dopo per quanto riguarda il Gran Premio di Ungheria che si è corso ieri pomeriggio, io sto registrando il mio post-gara domenica sera, voi lo vedrete lunedì alle 14 per ovvi motivi di post-produzione. L'Ungaro Ring ha ospitato la terza gara del Mondiale di Formula 1 e ha ospitato un Gran Premio che sembrava dare degli spunti interessanti per quanto riguarda la prima parte ma che poi si è concluso con un risultato a dir poco prevedibile, ovvero la vittoria di Lewis Hamilton che ancora una volta si dimostra il re dell'Ungheria, vince la sua 86esima gara di carriera ottava sul circuito ungherese, secondo Max Verstappen e terzo Valtteri Bottas che perde la leadership del campionato a discapito proprio di Hamilton che lo sopravanza in classifica. Una gara che comunque è stato già dei colpi di scena o comunque degli spunti interessanti già nell'avvio perché la pista, viste anche le gare delle categorie precedenti di cui parleremo a fine Racing Podcast, era considerata bagnata e dunque molti piloti hanno dovuto per forza di cose partire con le intermedie. Dopo però tre giri si è, diciamo, visto che la pista non era da intermedia e allora tutte le macchine poi hanno dovuto fare una strategia dell'asciutto. Strategie che per alcune squadre ha pagato, per altre squadre un pochino meno ma lo vedremo meglio in dettaglio con la grafica del campionato. Quello che comunque era un punto fermo di questo campionato di Ungheria è stata la netta superiorità di Hamilton che non solo ha preso l'ennesima pole position della carriera ma appunto ha toreato, diciamo, tutti gli avversari possibili e immaginabili finendo addirittura per doppiare tutti i piloti dalla quinta posizione in giù. Io onestamente un dominio del genere, faccio fatica a ricordarmelo, onestamente sono abbastanza basito in positivo per ancora una volta la superiorità di Hamilton che dimostra in Ungheria e in generale comunque di essere ancora una volta un campione. Hamilton domina una gara senza precedenti, si permette addirittura di fare il giro veloce, forse umiliando un po' troppo gli avversari con le gomme rosse, con una sosta in più quando non serviva ma comunque si aggiudica l'ennesima vittoria di carriera e festeggia una leadership del campionato che era stata persa nelle prime due competizioni in Austria, più per la verità per la gara numero uno rispetto alla gara numero due. Il podio è completato da Max Verstappen che comunque fa una signora gara dal momento che partiva settimo. Dopo le qualificazioni del sabato ci sono stati anche dei problemi per quanto riguarda lo schieramento proprio di Verstappen in griglia il pilota holandese ha di fatto sbattuto a muro la macchina prima della partenza, è stata rimessa a posto, ha fatto una gran bella partenza e ha difeso una seconda posizione anche dal ritorno di Valtteri Bottas che sembrava a un certo punto lanciato per la doppietta. Il più corrucciato è proprio il pilota finlandese che perde alla terza gara della stagione la leadership del mondiale. Non ho parlato delle Ferrari fino a questo momento, non c'è molto da dire per quanto riguarda l'interruzione come legge dal titolo la Ferrari è stata doppiata ma era una cosa prevedibile al netto della superiorità di Hamilton. Il murretto Ferrari va detto ci ha messo anche del suo, però la Ferrari era una macchia nettamente inferiore e al netto della qualifica dove la Racing Point, ovvero la Mercedes B, sembrava la seconda forza è venuta fuori alla lunga la Red Bull e che si sta riprendendo quello che è lo status di seconda macchina in pista. Andiamo a vedere dunque quelli che sono adesso gli altri risultati e un'analisi più profonda dunque con la classifica del campionato con l'appunto Hamilton che vince, 85 vittoria di carriera per lui e suona per Lewis Hamilton, God Save the Queen secondo Max Verstappen con la Red Bull, terzo Valtteri Bostas. Quarto posto per Lance Stroll con la Racing Point che è tanto discussa nel momento che Renault anche dopo la gara dell'Ungheria ha fatto un reclamo ufficiale contro la Racing Point che stava per essere giudicata a processo per l'irregolarità di questa macchina che è palesemente, secondo i addetti ai lavori, una Mercedes 2019 copiata in tutto e per tutto e sarebbe diciamo un tantinello illegale, mettiamola così. Quinto posto per Alexander Albon che ha la meglio sul finale di Sebastian Vettel Sebastian Vettel che finisce sesto con la prima delle due Ferrari settimo posto per Sergio Perez con l'altra Racing Point ottavo Daniel Ricciardo con la Renault nono addirittura Carlos Sainz Junior che rimonta nel finale su un Kevin Magnussen stoico che porta per la prima volta appunti la Haas in questa stagione ci sono tanti spunti da approfondire per quanto riguarda soprattutto la Ferrari in particolare modo vedendo la prestazione di Charles Leclerc perché il disastro diciamo della Ferrari è in parte dovuto anche al muretto che effettivamente un po' mancava con le scelte sbagliate e ha infierito già su una macchina che fa schifo di suo Leclerc in questo momento è stato cornuto e mazziato nel senso che dopo aver cambiato le gomme nei primi tre giri come tutti i piloti tranne le Haas ma delle Haas ne parleremo più avanti alla Ferrari di Leclerc sono state montate le gomme più morbide le gomme rosse che alla lunga ci sono arrivate delle gomme assolutamente inefficaci di conseguenza Leclerc si è ritrovato più volte a perdere tempo ha dovuto anche sbarazzarsi diciamo di Vettel anzi in realtà è più il contrario ha dovuto subire dei sorpassi di tutti i piloti del centro classifica Vettel compreso e con le gomme bianche ha fatto addirittura fatica a difendersi da Carlos Sainz Junior futuro compagno di squadra del Monegasco alla Ferrari segno che oggi in generale per colui che viene chiamato il predestinato c'era veramente poca roba e poca speranza Vettel ha fatto leggermente meglio Mister 40 milioni all'anno finisce sesto e dunque diciamo porta a punti una Ferrari che comunque in condizioni normali avrebbe puntato per essere la terza forza in pista del Circus in questo momento dal momento che di fatto la seconda è la Red Bull in mezzo c'è la Racing Point la Mercedes B chiamatela come volete la macchina rosa che a momenti finiva a podio per tratti della gara Stroh è stato terzo e mi ha salvato dall'onta incredibile della macchina rosa sul podio il canadese comunque finisce quarto quinto Alexander Album che comunque conferma che la Red Bull sta tornando dopo diciamo una gara 1 in Austria disastrosa e una gara 2 di Austria onesta che doveva rispecchiare effettivamente i veri valori la Ferrari è stata doppiata era una cosa prevedibile io prima della gara avevo detto che sarebbe finita più o meno come l'anno scorso l'anno scorso la Ferrari pigliò un minuto dalla Mercedes che fece vittoria con Hamilton Vettel fece terzo posto ma con un minuto di distacco che è andata addirittura peggio perché il dominio di quest'uomo è stato veramente clamoroso addirittura ripeto fatto il giro veloce all'ultimo giro per umiliare ulteriormente l'avversario qualora ce ne fosse stato bisogno già la Mercedes è molto più forte di tutte le altre scuderie per ovvi motivi da scompreso non c'era bisogno secondo me di toreare con gli avversari visto che Hamilton si è preso il lusso di doppiare dal quinto classificato in giù roba mai vista in tutto questo però Hamilton secondo me non è il pilota del giorno non è il pilota del giorno perché il mio riconoscimento lo voglio dare al danese Kevin Magnussen e in generale prendo lui per la prestazione della Haas una Haas che va a punti per la prima volta con il danese in questa stagione e che è stata addirittura davanti alla Ferrari per lunghi tratti della gara anzi per tutta la gara il buon Leclerc che dunque ancora una volta è testimone di una gara disastrosa non è riuscito a star davanti alla Haas che ha fatto una sosta sola ma la Haas ha fatto una scelta intelligente per una volta diamo merito alla scuderia di Gunther Steiner prima della partenza le Haas rientrano ai box per cambiare dalle intermedie alle gomme da asciutto prima che lo facciano tutti gli altri e a un certo punto sia Magnussen che Grosjean si ritrovano addirittura nelle posizioni d'appoglio nelle prime cinque posizioni robe veramente inenarrabili e la Haas per questa cosa dovrà fare una sosta in meno rispetto a tutti gli altri Ferrari compresa la Ferrari con Leclerc ripeto non ha passato la Haas che è una Ferrari cliente se così possiamo chiamarla vista appunto la partnership tra la scuderia americana e la scuderia di Maranello con le stesse gomme con una sosta in più peraltro perché la Ferrari ha fatto una sosta in più quindi aveva le gomme più nuove rispetto alla Haas cose veramente inarrabili segno che questo weekend ungherese per la scuderia di Maranello è veramente da dimenticare sarebbe facile in questo caso per me dare la delusione del giorno alla Ferrari e invece non la voglio dare la scuderia di Maranello perché comunque a qualche punto l'ha portata a casa ma la do alla mia McLaren da tifoso io onestamente sono un pochino deluso perché ok Carlo Sainzioni era fatto nono ha salvato il salvabile ma anche la McLaren ha dimostrato dopo due gare interessanti in Austria di subire tanto questa pista di solo aerodinamica di solo telaio e anche la prestazione di Lando Norris effettivamente è indicativa della prestazione della scuderia inglese perché Norris finisce tredicesimo rimane ok quarto in campionato in questo campionato molto corto però tredicesimo per uno che ha fatto terzo e quinto nelle prime due gare è di certo una controversazione un po' come quella di Leclerc ma Leclerc ha di mezzo anche una macchina inferiore al momento rispetto a McLaren diciamo che McLaren al momento è leggermente avanti Ferrari se la può giocare con Racing Point appunto la scuderia di McLaren e pochi altri vedremo se tra due settimane a Silverstone per la prima delle due gare la rossa saprà risollevarsi dopo questo momento molto buio la temo veramente complicata e mi auguro di non vedere un mondiale dominato da Lewis Hamilton che si sta avvicinando sempre di più al record di Michael Schumacher già Hamilton per me è nell'Olimpo dei piloti più forti della storia moderna e come se non bastasse sta sempre attentando di più al record di un'altra leggenda di questo sport ovvero Michael Schumacher Schumacher vinse 91 volte in Formula 1 Hamilton con oggi ne ha vinte 86 ma ripeto non è lui il mio pilota del giorno lo do a Kevin Magnussen per la grande chiamata della strategia della Haas che ha fatto veramente una scelta per portare punti alla scuderia americana parentesi degli italiani Giovinazzi finisce 17esimo per una Alfa Romeo che rispecchia ancora una volta la difficoltà dei motorizzati Ferrari che addirittura in qualificazione sono finiti ultimi e penultimi davanti addirittura a nessuno ovviamente perché dietro addirittura volevo dire ovviamente alle Williams che hanno fatto molto bene con Latifi e con Russell sfortuna per il canadese che è stato centrato diciamo dopo due giri e ha dovuto concludere ultimo in classifica doppiato di millemila giri parentesi sulle categorie minori perché invece sono state gare molto più spettacolari e sono campionati molto più equilibrati e ancora una volta soprattutto in Formula 2 si vede un talento per quanto riguarda la Ferrari Driver Academy e non è il figlio di Schumacher che per talento non è neanche avvicinabile all'unghia del piede sinistro di Michael Schumacher ma è il rusto Robert Schwarzman che vince di strategia la gara più lunga la gara che dà più punti una gara fondamentale che ha visto il russo cambiare le gomme per ultimo diversificare la strategia partire con le gomme medie anziché con le gomme morbide arrivare per primo allo stop al 31esimo giro dei 38 previsti e poi guadagnare tantissimo con le gomme rosse e andare a tagliare il traguardo con 20 secondi di vantaggio sul secondo classificato secondo classificato che è un altro russo il secondo su terra di questa categoria che è Nikita Mazepin al primo podio della carriera in Formula 2 e dunque per entrambi i piloti suona l'inno della federazione russa uno dei più belli musicalmente di questa composizione terzo posto per Mick Schumacher che comunque in Ungheria si trova bene ha fatto due podi Schumacher in Ungheria appunto dimostrano di avere feeling perché il pilota tedesco figlio di Michael ha vinto l'unica gara dell'anno scorso per carità non fanno questi due podi di Mick Schumacher un pilota talentuoso però comunque è un pilota discreto su cui la Ferrari Driver Academy può puntare la Ferrari Driver Academy può puntare su tanti piloti in questa categoria soprattutto Schwarzman e Marcus Armstrong che però insieme al suo compagno di squadra Christian Lungar si è ritirato al termine della prima gara di Ungheria e dunque le Art Grand Prix che sono delle grandi protagoniste di queste categorie sono venute meno quarto posto per l'italiano Luca Ghiotto che si riscatta dopo un weekend austriaco devastante ma soprattutto si riscatta con una suntuosa vittoria in gara 2 di cui vi faccio vedere il podio per citare Lucio Rizka che ha raccontato magistralmente dal mio punto di vista la gara di Formula 2 la gara sprint Ghiotto ha fatto una vittoria straordinaria una vittoria che anche qui è frutto della sua gestione delle gomme la grande gestione di Luca Ghiotto ha permesso di vincere al photo finish una gara su Callum Milot pilota inglese anche lui della Driver Academy come si vede benissimo dal logo della tuta dell'inglese in questo caso visto che la pista dell'Ungheria è una pista che degrada tantissimo le Formula 2 sono dovute fermare anche nella gara sprint che non comprende pit stop ha finito la gara con le gomme con cui era partito e va a vincere in volata su Callum Milot è terzo ancora una volta Mick Schumacher dunque finalmente torna a riguonare Fratelli d'Italia l'inno nazionale italiano per Luca Ghiotto che meriterebbe veramente molto di più di questo decimo posto in campionato e speriamo che questa vittoria possa sbloccare il pilota Vicentino Formula 2 che tornerà come sempre insieme alla Formula 1 a Silverstone per due appuntamenti parenti sulla Formula 3 il leader del campionato è sempre Oscar Piastri il pilota australiano che fa doppio secondo posto in gara 1 e in gara 2 si conferma in gara 1 il vincitore della Austria a gara 2 ovvero Theo Purscher dunque per lui suona la marsigliese terzo posto invece per Bent Wiskal che finisce il 17esimo in gara 2 ma è assoluto protagonista in Formula 3 sono state veramente gare spettacolari soprattutto la prima che vede il Pullman Alexander Schmoyer essere buttato fuori praticamente alla prima curva e si ritrova una gara di rimonta non solo perché nella prima curva dell'Ungaria nel tobogga ungherese vengono fatte fuori altre 4 o 5 macchine dunque ci sono ripetute safety car prima ripartenza dopo qualche giro viene a mancare letteralmente il motore di Liam Lawson che va in fiamme e dunque ennesima safety car alla fine la spunta Theo Purscher su Art Grand Prix secondo Oscar Piastri il pilota australiano su Team Prema e terzo appunto Bent Wiskal su MP Motorsport Bent Wiskal che avrebbe vinto anche la gara 2 al traguardo con un passo letteralmente mostruoso sul bagnato la gara 2 della domenica mattina è stata fatta sul bagnato per le Formula 3 peccato che a Wiskal vengono cominati 10 secondi di penalità ne avrebbe scontata addirittura una con 5 secondi aveva 6 secondi di vantaggio al traguardo Bent Wiskal ma un incidente all'italiano Federico Malvestiti azzera tutto il vantaggio dell'olandese che fa finire la gara sotto safety car sotto safety car vince David Beckman pilota tedesco del Team Trian quindi altra squadra italiana seconda posizione per Oscar Piastit in prima squadra italiana terzo posto per Dennis Hauger pilota del Red Bull Junior Team sul team High Tech Grand Prix lo stesso di Luca Ghiotto che ha vinto in Formula 2 dunque per David Beckman suona l'indo nazionale tedesco che letteralmente significa la terra dei tedeschi dunque tra due settimane tutte le categorie di auto torneranno a Silverstone per due appuntamenti dal 2 agosto vi lascio con il podio della Formula 1 dunque con Hamilton che è leader del campionato ha 63 punti 58 per Valtteri Bottas che è finito terzo seconda posizione per Max Verstappen che sta pian piano recuperando il ritiro di Austria 1 voi fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente per quanto riguarda questa gara dell'Ungheria secondo voi che è il pilota del giorno come avete visto le Ferrari e come le vedete anche per i prossimi Gran Premi prima di salutarvi vi ricordo la programmazione del canale dunque questo Racing Podcast è uscito il lunedì alle 14 martedì alle 19 parleremo invece del moto mondiale che devo ancora recuperare quindi arriverà presto anche quel Racing Podcast lì moto mondiale che sarà protagonista sempre domenica alle 19 per il Racing Podcast e poi lunedì sempre alle 19 parleremo del baseball americano della MLB che riparte questa settimana e parleremo delle prime partite di stagione regolare dunque il saluto da parte di Matthew Torg e ci vediamo dunque a un prossimo video che